E non parlare perché a me mi hai dato una fiducia senza limiti, io non ho parlato, te la fiducia a me l'hai data, sempre, illimitata, ma io ho parlato del fatto, ma non avete capito niente, io ho detto che se Nino ha investito, ha capito lei che ancora vede che Marco ci può provare, ha capito lei, è rimasto male, lo so che è rimasto male, mi dispiace, è perché è innamorato di Anna, Lei si basa su gesti affettuosi che ha Marco nei suoi confronti, Maria tutto il mondo, in mondo visione ha capito che Marco non gli ha fegato niente di Gemma, lei si prova ancora, Marco la bacia e quindi lei ci crede, certo e lo ribascio, posso dire una cosa? Guarda, ti adoro Io non so se è la primavera, se è la pazzia Marco mi piace, va bene? Ma scusa non ti piace Bellissimo 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 Grazie a tutti.